Pioggia di sale, così che tutti non riescono a uscire da casa è una pioggia di sale, una pioggia micidiale che uccide tutti quanti, che fa male alle piante prima che agli uomini è scoppiata in mezzo al cielo e nessuno l'ha previsto così che quando guardi su puoi bruciarti gli occhi ma non c'è motivo di essere preoccupati basta chiudere le porte e serrare le finestre e non posso parlare, non posso comunicare con nessuno, solo con chi è vicino e la pioggia scende così acida e nera e non ha preoccupazione per le case e le persone e la pioggia scende così acida e nera tutto deve continuare, tutto deve continuare e lo dico nella radio, anche alla televisione non c'è niente da pregare, è successo la stagione tornerà e la primavera è qua nasceranno ancora i fiori, solo che saranno uguali e saranno tutti uguali, con lo stesso colore non potrai più portare rose rosse al tuo amore non bisogna preoccuparsi, troppo troppo non è giusto e la pioggia scende così acida e nera e non ha preoccupazione per le case e le persone e la pioggia scende così acida e nera tutto deve continuare, tutto deve continuare e non posso parlare, non posso comunicare con nessuno, solo me